Il principio di incendio Pullman questa sera, lunedì 15 gennaio, poco dopo le 21, in via Druento, angolo via Altesano, Torino. Dal mezzo della linea V1 che da Torino si stava dirigendo a Druento, è iniziato ad uscire copiosamente del fumo e il conducente è stato avvisato da un'automobilista che vedendo il fumo gli ha fatto i segnali con gli abbaglianti. Subito fermato al mezzo, l'autista ha fatto prontamente scendere i passeggeri, tutti illesi. Sul posto stava transitando il sindaco di Venaria Reale, Roberto Falcone, che ha subito allertato i vigili del fuoco e si è fermato a prestare aiuto. Sono tempestivamente giunti i vigili del fuoco di Torino che hanno spento il principio di incendio. No, è l'olio che frega perché se inizia a sfruttarlo di nuovo fuori, li piglia di nuovo fuoco perché è fallente. Grazie a tutti.